Gerardo che lavora e noi giochiamo ecco il mio manager mi sta accompagnando al campo mi raccomando ti voglio veramente in forma mi raccomando ci siamo allenati mesi e mesi per questa partita la grande finale di Champions League preparatore atletico eccolo ed eccomi davanti a qua dobbiamo fare bella figura lo sai ci sono quegli osservatori della Paris Saint Germain non ti preoccupare Luke non ti preoccupare sai che sei in ottimi piedi no? sta per cominciare ecco le telecamere dagli spogliatori i giocatori sono per salire ecco c'è anche uno un tizio che va mai al suo non si sa che è troppo troppo brutto ecco sono entrati in campo troppo cool lui è il cameraman ma io chi metto stasera? mister? questo è il mio manager e poi il nostro cuoco mister ma fai giugato ormai sempre il mouse può fare a sinistra ecco i ragazzi si scaldano i muscoli si scaldano i muscoli? passo la camera al camera il mitico guarda Cipriano mentre si mette la casacca guarda è scaldano i videos in seguito ecco ecco il sentito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Una grandissima cagata fatta da Donato Cipriano Grazie a tutti Ecco il portaborse del manager Anche lui molto soddisfatto del suo assistito Donato Pelé Compagno di squadra di Donato Pelé Luca Frise per il suo taglio Erasmo da Rotterdam Famosissimo in tutto il mondo Carlo Il fratello di Luca Non si sa ancora bene il suo ruolo nel calcio Quale sia però Ed ecco Rullo di tamburi Rullo di tamburi Il nonno del calcio Eccolo incredibile Il nonno del calcio Fa la masetta più sexy del mondo E poi ci sono io Ecco tutte le telecamere su di me Applauso grazie Grazie Sono stati grandiosi Vi ringrazio Il minchione del calcio Il minchione Il minchione del calcio Il minchione Il minchione del calcio Il minchione del calcio Il minchione del calcio Il minchione del calcio Il minchione del calcio